Vogliamo un futuro qui. Mobilitazione degli studenti contro l'emergenza abitativa e il caro studi. Annunciato un presidio degli studenti del Veneto, mercoledì 27 settembre alle 8.30, sul Ponte Rialto a Venezia. Studiare sta diventando un privilegio, soprattutto in Veneto, dove la politica regionale, dicono, ignora le denunce e le richieste degli studenti. Gli affitti costano sempre di più, raccontano i ragazzi. I libri rappresentano una spesa pesante per le famiglie. I costi del trasporto pubblico sono aumentati, mancano investimenti e tutela sul diritto allo studio. Dopo le proteste di maggio, che hanno visto le tende e i presidi permanenti davanti a tutte le università della regione, gli studenti si ritroveranno dunque a Venezia, sul Ponte di Rialto, per chiedere misure concrete contro l'emergenza abitativa e il caro studi. La protesta è indetta da Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi. Grazie. 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 Grazie.